Buongiorno e bentornati in un nuovo video. Oggi voglio farvi vedere questa promo di cashback, quindi rimborso, di Actimel. Per partecipare è semplicissimo. Vi faccio vedere qui sulla sezione come partecipare, così è tutto più chiaro. Allora, bisogna acquistare una confezione da 6 in un gusto che si vuole, registrarsi al sito con tutti i dati anche dello scontrino e mettere foto o scansione dello scontrino e entro 24 ore da quando si è partecipato si riceverà un link che sarà da confermare. Tutta la procedura deve essere fatta entro 5 giorni. Poi entro 6 mesi arriverà rimborso. La percentuale di rimborso è 100%, quindi tutto quello che spendete vi sarà ridato fino a un massimo di 3,29 euro. E se andate a leggere sul regolamento, vi dice che potete partecipare soltanto una volta nell'intero periodo. Abbiamo tempo fino al 6 di aprile 2022, poi vi spiega le modalità per ricevere il rimborso, ma ci arriviamo dopo. Come al solito, leggetevolo tutto, io dico le cose basilari. Dice di tenere i codici EAM, quindi codice barre, e anche ovviamente lo scontrino. Questa qui è l'email se volete chiedere qualcosa. Qui invece c'è il numero. Allora, torniamo qui e facciamo partecipa, oppure così, oppure andate su richiedere imborso, è uguale. E vi si apre questa schermata con tutti i dati che dovete inserire. E qui veniamo alla parte soccolenta. O bonifico bancario, o carta dotata di IBAN. A questo proposito sotto trovate AIP e IAP, i miei codici o link, che sono carte gratuite. La IAP può essere utilizzata anche dai minorenni. E qui mettete l'IBAN e se non volete fare una carta o così, potete usare anche una postpay. Nella parte sopra ci saranno tutti i miei dati che ovviamente non vedete. Dopo aver inserito tutto, facciamo invia i dati. Grazie di esserti registrato, entro 24 ore riceverai un'email. Entro 5 della data di acquisto, clicca sul link per confermare la partecipazione. Vediamo se mi è già arrivata. Sì, è già arrivata. Clicca qui per confermare, quindi clicchiamo. Grazie per aver partecipato. Entro 6 mesi ti arriverà il pagamento, il metodo di pagamento che hai scelto. Quindi postpay, eccetera. Giù nell'info box, vi ricordo che ci sono tutti i miei link referral e non. Anche della degustabox. Me ne è appena arrivata una, dopo tanto tempo che non la prendevo. Quindi vi farò il video e ve lo metterò. E ho un codice anche per quello. E quindi niente, ci vediamo al prossimo video. Alla prossima! Ciao!